Fondazione Comunitaria VCO, due bandi in scadenza il 19 di settembre. Il primo è il Bando Bimbi. Sì, è una iniziativa che abbiamo lanciato per la prima volta quest'anno grazie al contributo di Compagnia di San Paolo. È una modalità un po' nuova di relazionarci con le organizzazioni del terzo settore locale. Infatti attraverso questo bando premiamo le organizzazioni che hanno sia un progetto nel settore infanzia sia un impegno in termini di raccolta fondi. La fondazione infatti riconosce un premio alle organizzazioni che si impegnano nelle attività di raccolta fondi a favore del loro progetto. Il bando è aperto a enti pubblici, enti del privato sociale, costituiti da almeno 12 mesi e il budget complessivo è di 20.000 euro. In scadenza anche il bando Piccoli Progetti, un bando un po' particolare, ce lo descrive? Sì, è la seconda sessione del bando Piccoli Progetti, la prima si è chiusa nel giugno 2019. È un bando che riproponiamo per la seconda annualità. Avendo riscontrato un ottimo successo abbiamo deciso quindi di riaprirlo alle organizzazioni. L'abbiamo chiamato Piccoli Progetti proprio perché si riferisce sia a piccole organizzazioni sia a piccole progettualità. Infatti gli enti che possono candidarsi devono avere entrate da bilancio inferiori a 20.000 euro annui. Il contributo massimo erogabile da parte della fondazione è di 3.000 euro. A chi ci si può rivolgere per avere ulteriori informazioni, magari per un aiuto nella partecipazione al bando? Certamente ci si può rivolgere sia agli uffici della fondazione, tramite contatto telefonico o posta elettronica, oppure si possono scaricare direttamente da sito web fondazionevco.org tutti i documenti, modulistica e regolamento.